buonasera ragazzi bentornati sul mio canale è una piccola pillola ripilogativa di quello che è successo negli ultimi giorni voi avete visto l'unboxing o lo vedrete perché ancora non l'ho caricati tutti quanti comunque io avevo comprato dei fari del new da 660 led dimanabili tra luce calda luce fredda sia utilizzabili sia batterie erano comprese di stativi e sia ad alimentazione di rete li ho restituiti perché perché utilizzarli a 660 led prevedeva l'utilizzo di tutte e due le luci quindi la media tra luce calda e luce fredda se io avessi voluto solo luce fredda o solo luce calda avrei dovuto spegnere 330 led per una per l'altra nel senso che il faro è composto da 330 led di luce fredda e 330 led di luce calda quindi se ne vogliamo una o l'altra il faro da 660 diventa 330 ovviamente come potete ben capire la potenza viene dimezzata e l'utilizzo di qualche gelatina e filtro colorato frontalmente ne dimezza ulteriormente la potenza diventando pressoché quasi inutilizzabili per l'utilizzo che ne volevo fare io quindi in esterna quindi a parte quello là da 660 che diciamo si può ovviare con un 900 led ho optato per il faro della yon yuo che in questo caso però non essendo anche lui non essendo full led nel senso non c'ha tutti i led che cambiano la temperatura colore ma ne ha la metà fredda e metà calda a questo punto sceglierei il 1200 led in maniera che avrò 600 led freddi 600 led caldi l'unica inconveniente è che lo vendono senza batteria e senza cavo di rete quindi toccherà comprare tutta parte il prezzo di un solo faro supera quello della coppia di fari della new e però stiamo parlando di un faro da 1200 led con un utilizzo totalmente diverso da questi qua sempre questo colore ne avessi la necessità perché per ora non ne ho la necessità sto cercando di lavorare in low light e quindi i fari non continuano ad arrivare messaggi purtroppo ragazzi mi dispiace non ho messo in modalità aereo il cellulare un'altra cosa che ho sostituito è stato il monitor esterno perché andava in conflitto con il cavito hdmi della sony 2003 fischiava l'altoparlante del monitor appena lo collegava andava registrazione fischiava non so per quale motivo dove andare a togliere tutto il volume insomma più di una volta ne ha fatto mi ha fatto fermare la registrazione mentre stavo facendo delle clip la cosa mi ha infastidito notevolmente tra l'altro la qualità dell'immagine non è che sia eccelsa e la batteria non si va ad innescare all'interno del corpo monitor bensì va applicata una sorta di piastra dietro al monitor è come fosse la piastra di un monitor da computer e poi con un cavetto si va nell'alimentazione una cosa che mi dà molto molto fastidio perché se io voglio creare un'alimentazione doppia cioè batteria e cavo di rete e poi avere la possibilità di switchare con un interruttore a dire ok prendi la corrente dalla rete prendi la corrente dalla batteria come si fa anche nei faretti di illuminazione ciò non è possibile mi ha dato fastidio anche questo mi sembra di averlo detto anche durante l'unboxing non ho fatto immediatamente la restituzione mi sono dato qualche giorno di tempo qualche giorno per testarla non ne sono assolutamente contento nonostante fosse stato un prodotto comprato con un'offerta lampo pagato sia e no 60 euro quindi molto molto meno rispetto al suo valore di commercio pagato veramente poco però quel poco ho preferito farlo restituire perché il prodotto comunque non l'avevo utilizzato la linea mi ha venduto anche un arm quindi un braccio mobile di 30 centimetri regolabile per poter attaccare il mio monitor esterno allo spallaccio quindi quando siamo con lo spallaccio bruciato c'è il monitor esterno qui e posso controllare peccato che l'attacco sulla barra d'alluminio dell'arm del braccio mobile non sia così serrante tanto da mantenere il peso del monitor esterno e quindi mi sono ritrovato col monitor che poi faceva bloop e se ne scendeva giù quindi assolutamente improponibile messo nel pacchetto anche quello e restituito subito ed immediatamente questo è quello che vi volevo far sapere ho restituito questi prodotti e vi sto spiegando il motivo per cui li ho restituiti quindi qualora voi avesse deciso di comprare l'uno o l'altro prodotto sappiate che ci sono queste limitazioni nell'utilizzo quindi se il vostro fine è fare i videomaker esterni per un videoclip musicale per un qualsiasi cosa per un battesimo sappiate che nella confusione dell'azione vi potrebbe capitare il disastro e quando siete in un battesimo non potete dire al prete rifacciamo la scena perché mi è caduto il monitor esterno o rifacciamo la scena perché non mi è bastata l'illuminazione del faro cerchiamo di di crearci un nostro setup più solido solido e che ci garantisca la riuscita questo era quello che vi volevo dire questo è quello che volevo farvi sapere se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al mio canale e a proposito del mio canale io volevo fare il secondo canale ma mi sono reso conto che purtroppo la mia vita ha i giorni di 24 ore e non di 48 quindi non riuscirei a gestire un secondo canale ho scelto quindi di dividere il mio canale in almeno due rubriche la rubrica libera dove ci sarà io che gioco con la cucina il blog le quattro dia che le tra di noi la diretta e un'altra rubrica chiamata tutti i pazzi per i mixer che vedrà solo ed esclusivamente il mondo tech foto video making computer e quant'altro tutto ciò drone tutto ciò che riguarda l'elettronica ciò che va a corrente a batteria insomma quello che piace a noi no però in un giorno prestabilito ci faremo anche le live il secondo canale è improponibile per ora da solo non riesco a fare tutto e quindi abbandono l'idea del secondo canale dividerò questo qui quindi mi aiuterete qui anziché di là come vi avevo chiesto a far crescere ulteriormente il canale e suddividendo spero di non annoiare chi magari non vuole sentire parlare di tecnologia ma ama la cucina o chi vuole sentire parlare solo di viaggi e non gli interessa del computer quindi suddividerò questi due giorni cercherò di organizzare e programmare le uscite video precise sempre a tale ora sempre a tale giorno in maniera che il panorama ludico sia aperto e fruibile da tutti ragazzi con questo io vi ringrazio vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al mio canale ad attivare la campanellina perché così ad ogni mio nuovo video verrò a rompervi le scatole con una bella notifica e condividetelo condividete i miei video sui vostri social in maniera di invitare anche i vostri amici a far parte della nostra piccolissima community e far crescere il canale fa molto molto bene a me e spero che quello che fa bene a me faccia bene anche a voi ragazzi un bacio ciao